Il fatto della jump Ok, eccoci Ehm, dove andiamo questa volta? Il fatto della jump E' un po' Pam pam, pam pam E' un po' E' un po' Sì dai S'abbia sudato da tanto tempo L'hanno raggiustato S'abbia sudato E' un po' E' un po' Hanno messo anche Una nuova mappa Castello Corallino Cioè Atlantide Dove ho trovato il tridente di Aquaman E ora ce l'ho la skin di Aquaman Scrivete sto tipo a me E che c'entra? E' già Loro lo sanno L'hanno visto in un video Lasciate un bel like Così Al prossimo video E' certo Vediamo al prossimo video Vittorio è il mio fan Ma come si senti? Sì, sono iscritti Eh sì, c'ho 23 iscritti Ehm E' affetto Pam 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 75 3 5 Calma 3 visione Lingua 91 50 A i miei cuffi hanno fatto diverse strade che poteva essere dietro ho capito fammi venire a me ok siamo arrivando ci incontrano a sapere ci siamo incontrati a sapere studiate ok sto portando un certo pom pom 75 che è uguale a pom pom 75 e ciao vittoria oh mio dio cosa c'aveva niente così che sono tutti senza armi fare senza armi buona e dopo cominciamo a camminare infatti il disturbo ma qui c'è ehi qui sei tu chi è questo ero io ero io sono sparata con l'omino lì questo è un'altra cosa ma è meglio squalo ma è meno ti sta uccidendo no che attacca si è attaccato all'angolo che aspetta vanno a vedere la tempesta la tempesta ha ragione è stata perfetta nesta ma l'hanno riaggiustata saluta se lo lo sta bene bene ti prego si è iniziato e il camion perché alle macchine si possono mettere le musiche si vittorio latina o meglio brutus il dio denaro è bello ma mi sa che il motoscafo non c'è caso si andiamo all'autorità allora aspettatemi però arrivo 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 dove sta? sei andato giù sei andato giù io cura vittorio uno mi cura e l'altro da curiamo vittorio anche io si 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 andiamo a medikit no dammi il medikit qual'era mio dammi il mio medikit grazie no 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 let's ucciso 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 madonna quanto sono arrabbiato l'abbiamo ucciso non vi preoccupate i passeggeri sono pregati da lanciare le cinture In caso di emergenza Sono qui Dovunque I signori passeggeri Sono pregati Di allacciare le cinture Si parte Ok siamo all'autorità Ricordate Il pieno di mida Non è mai scelta Chi è c'è anche qua Chi è Chi è Che casino Ora Io mi travesco Lo scagno Sombra Tutti nel cavo Tutto nel cavo Tutto nel cavo Uccileteli che no metti la accelerazione ecco bravo i pregoni ho imparato ormai vado a quella parte porca miseria ci dobbiamo andare prendete questo Michele uccisi? si sei sicuri? sicuri sicuri? si lo so l'ho sentito si lanciarazzi guardate che io lanciarazzi non ho paura di usarlo ma lo vedo sta lo vedo sta lo vedo sta lo vedo sta eh pum tanto io edito con le mie cuffiette sono oggi un pro gamer appena nato chi è morto porto attento attento è orchi tu è orchi iff